ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo video allora oggi parlerò poco vi vorrei far vedere quello che è successo più fino adesso allora dalla caduta di nibali al cosiddetto pugno di moscom perché guardando bene le immagini dopo vi farò vedere che non si capisce molto bene se è stato un pugno una manata siccome il corridore dietro non si muove tanto quindi vi farò vedere questo è una visione e Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione